Sono 215 nuovi casi di covid in Abruzzo e quanto emerge dall'analisi di 4.361 tamponi molecolari e 2.637 test antigenici per un tasso di positività complessivo del 3,1%. Il più piccolo tra i contagiati ha 10 mesi, il più anziano 94 anni. La provincia dell'Aquila è ancora la più colpita dove si registrano 93 ulteriori casi. Seguono il Terramano con 63 casi, il Chietino con 40 casi e il Pescarese con 17 casi. Uno dei contagiati invece proviene da fuori regione. Oggi 243 guariti e 5 morti che portano il bilancio delle vittime a 2.298. Uno dei decessi è avvenuto nei giorni scorsi ma comunicato solo oggi dall'azienda sanitaria. Attualmente in Abruzzo sono 10.232 positivi accertati, 34 in meno rispetto a ieri. Continua lentamente a scendere il numero dei pazienti ospedalizzati. 537, meno 20 rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica e 56, meno 2 rispetto a ieri ma con due nuovi ingressi, quelli in terapia intensiva. Mentre gli altri 9.639 positivi, 12 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Intanto il DPCM Draghi, che prevede solo due colori di restrizioni, rimarrà in vigore per tutto aprile. Oggi incontro tra governo e regioni, le quali hanno presentato la bozza delle proposte per le riaperture. Nel testo si prevede lo spostamento tra regioni gialle, la riapertura cena, pure nelle zone d'alto rischio, per bar e ristoranti, ma anche, seguendo un rigido protocollo, via libera palestre, piscine, cinema, teatri, concerti e spettacoli. Sono le regioni ad offrire al governo gli strumenti per ripartire. Questo è il commento del governatore d'Abruzzo, Marco Marsilio. Le regioni hanno approvato delle linee guida per la riapertura di diverse attività e ha chiesto al governo di individuare delle date precise dopo le quali permettere queste riaperture, anche per poter programmare la ripresa in particolare del turismo, ma di tanti altri settori, palestre, piscine, ristoranti, bar, cinema, musei e così via. Ancora una volta sono le regioni a porsi all'avanguardia, a fornire al governo e al paese gli strumenti per ripartire e rimettere in moto l'economia, che è la seconda grave crisi dopo quella sanitaria che dobbiamo assolutamente affrontare prima che degeneri e prima che la crisi economica possa davvero trasformarsi in una tragedia.